Continuo ad andare avanti. Molte persone che si sono iscritte a Un Miracolo ogni giorno mi scrivono e condividono la loro vita con me. Questo mi tocca profondamente e sono riconoscente per la loro fiducia. Prego, qualche volta piango davanti alle loro sofferenze, qualche volta sorrido davanti ai loro miracoli. Vedo Dio agire nella vita di molte persone e a Lui do tutta la gloria. Ho visto molte situazioni veramente difficili, come malattie, problemi di persone senza tetto, lutti o membri della famiglia che non si comportano bene. Ma quello che mi urta maggiormente è il tradimento di qualcuno vicino. Un bambino mollestato sessualmente da un adulto, spesso in famiglia, una donna tradita dal marito, un credente che si sente emarginato dalla sua chiesa. Sono cose che capitano. Un sentimento di tradimento si installa nella vita di queste persone. Come faranno ad avere di nuovo fiducia? Come inizieranno a vivere di nuovo? Gesù stesso è stato tradito. È stato venduto per poche monete d'argento da uno dei suoi discepoli, un uomo che è stato accanto al figlio di Dio per tre anni ed è stato testimone dei miracoli compiuti da Lui. Giuda ha condiviso tutto della vita di Gesù. Ha visto la sua compassione, il suo amore, la sua gentilezza, le sue battaglie e all'improvviso ha deciso di tradirlo. Lo ha fatto appena dopo aver preso il pane e il vino nella Pasqua con Lui. Quale oltraggio, quale orribile tradimento. Eppure, attraverso questa disillusione raccapricciante, Gesù avrebbe perfettamente compiuto il piano di Dio per salvarci. Dopo che Giuda l'ha venduto, Gesù è stato arrestato e condannato a morte e su quella croce ha portato tutti i nostri peccati, malattie e ogni tradimento. C'è speranza, questa speranza è Gesù Cristo. Il tradimento del suo amico gli ha spezzato il cuore. Invece di focalizzarsi su Giuda, gli ha detto semplicemente quello che fai, fallo presto. Giovanni 13, 27. Poi è andato avanti, avanti verso la sua missione. È a questo che gli chiama anche te, amico mio. Continua ad andare avanti. Per la grazia di Dio vai avanti, perdona, dimentica i torti subiti, vivi in novità di vita. Non meditare più sul passato, non rivolgere più la tua attenzione lì. Sì, le persone ti hanno deluso, tradito, abusato, rigettato, maltrattato. Ma Cristo non ti deluderà, non ti tradirà, non ti rifiuterà, ti tratterà sempre con amore. Vai avanti, amico mio. Prega con me. Signore, scelgo di andare avanti. Non posso con la mia propria forza, ma posso per la tua grazia. Scelgo di vivere di nuovo. Scelgo di perdonare e di vivere una vita nuova. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie